Sabato 18 marzo, alla suoneria di settimo, Lab Graal, in concerto. Alla suoneria, il Lab Graal, in occasione della festa irlandese del St. Patrick Day, sarà protagonista di una serata speciale. Un Celtic festa all'insegna delle tradizioni celtiche. Rosalba Nattero e il suo ensemble proporranno in anteprima brani inediti dal nuovo repertorio. Per questa serata speciale, Lab Graal sarà affiancato dagli artisti della Compagnia dei Bardi di Dreamland e dai Guerrieri del Sole Nero. Le musiche del Lab Graal saranno coreografate dalla Compagnia XED. Ricordate, sabato 18 marzo, ore 21.30, suoneria La Casa della Musica, via Partigiani 4, settimo Torinese, Lab Graal, in concerto. Ingresso a offerta libera, in ricavato e destinato agli animali in difficoltà, assistiti da SOS Gaia. Infoline 011 802 8540 oppure 011 530 846 labgraal.org Vui un l'haizziile sírko dai better aspo della fonda mediuberici.